La tecnologia applicata è prodigiosa, è stato il connubio tra la capacità di produrre un microchip in grado di analizzare con elevata definizione i segnali che arrivano questa volta non da una telecamera esterna ma dall'occhio stesso e diciamo elaborarli, amplificarli, vicariando quella parte di retina che non era più in grado di funzionare, di trasmettere così l'impulso al nervo ottico. Il nervo ottico però deve essere un nervo funzionante e tutta la parte diciamo dietro all'occhio, quindi per capirci paragonando l'occhio a una macchina fotografica il cavo che potesse trasmettere i segnali della macchina fotografica al computer deve essere funzionante e soprattutto la persona deve aver già imparato a vedere perché non è semplice ritrovarsi dei segnali visivi ma non averli mai saputi interpretare. La scelta deve essere per patologie che lasciano ancora una parte del sistema visivo in grado di supportare diciamo questo nuovo elemento inserito nella sua catena. La scelta deve essere di persone che effettivamente non vedono più niente perché comunque l'inserimento di questo componente elettronica è invasiva quindi non si può parlare non so di un orologio elettronico di ultima generazione messo il pozzo. Si parla di un impianto inserito nell'occhio quindi con un intervento abbiamo visto di una complessità notevole. Il collega ha raccontato che forse è stato uno degli interventi più complessi che lui abbia mai eseguito pur essendo un collega di provatissima esperienza. E poi dall'altra parte ci va un assetto psicologico della persona che sia in grado di sopportare il delicato processo di riabilitazione visiva perché inizialmente arrivano degli stimoli luminosi che poi bisogna saper ricondurre alla razionalità di un'immagine e questo richiede ovviamente una predisposizione d'animo e una capacità non proprio comuni a tutti. La cosa importante di questa retina artificiale, le possiamo vedere poi dalle immagini che probabilmente arrivano, è proprio la capacità certo di utilizzare dei sistemi anche molto miniaturizzati di elaborazione dei dati ma di non avere delle telecamere esterne e quindi di essere direttamente collocata sulla retina. Nonostante questo c'è comunque una componente elettronica che bisogna imparare a padroneggiare e in ogni caso si tratta di una preproduzione, quindi non ancora un apparecchio elettronico definiamolo consumer e quindi di libero accesso a tutte le persone. Si tratta di processi piuttosto delicati, ecco questo è il piccolo sensore che viene inserito nell'occhio ma come vedete quel elenco ben specificato nel sito ufficiale della società che produce queste cose dice quante purtroppo siano le patologie oculistiche non indicate per questa applicazione che di fatto è limitata in questo momento a casi particolari. Questo è importante perché da un lato bisogna non alimentare false speranze verso tutte le persone che con disturbi di vista dal più al meno grave pensino di avere già una tecnologia a portata di mano, ma dall'altro ricordare che questi primi passi, ecco qui si vede per esempio un altro tipo di applicazione che si ha un sensore nell'occhio che passa i segnali al nervo ottico ma questi segnali arrivano da quel tipo di occhiali lì che hanno una telecamera esterna. Quindi il grande passo di quest'ultima tecnologia è proprio di avere inserita anche la telecamera direttamente dentro l'occhio per dirla un po' in termini generici. Però la cosa più importante è questa, ripeto da un lato non coltivare speranze verso persone che magari hanno dei disturbi di vista per quanto gravi, non così radicati, non così totali. Ma dall'altra ricordarci che il progresso è veramente veloce in questi casi, quindi l'aver aperto la porta a questo tipo di ricerca significa molto probabilmente entro non pochi anni o forse anche non pochi mesi trovarci evoluzioni di questa cosa che consentiranno di ampliare queste tecnologie, il campo di applicazione di queste tecnologie verso fasce di persone sempre più vaste. E quindi direi non speranze ma molta attenzione verso questo tipo di progetti perché sono veramente belli.